Sia lodato Gesù Cristo, se avessi compreso anche tu in questo giorno quello che porta alla pace. Ecco, cosa porta alla pace? Qui avete un quadro che ricorda un episodio della vita di Gesù che dopo la risurrezione è entrato nella stanza dove erano radunati gli apostoli, dopo la crocifissione erano impauriti e ha detto pace a voi. E allora finalmente hanno ricevuto lo Spirito Santo. Ricevete lo Spirito Santo, cioè ricevete i doni amore, gioia, pace, benevolenza, mitezza, dominio di sé. Hanno ricevuto i doni dello Spirito, tra cui la pace, che è un dono di Dio. Pace a voi. Ecco, essere visitati da Dio ti dona pace. Perché Dio non viene per giudicarti, ma viene per salvarti, per dirti guarda sei un figlio carissimo e anche se ne hai combinate qualcuna, mettiti l'anello al dito, mettiti il vestito più bello, perché facciamo festa. Oggi tu hai ritrovato la tua identità. Padre, non sono degno di essere chiamato tuo figlio. E invece lui dice no. Oggi è un giorno di festa nel cuore del Padre. Perché tu hai ritrovato la pacificazione con quello che sei, cioè un figlio di Dio. E anche se hai commesso il peccato, non hai perso questa identità, come credono i nostri fratelli protestanti. Ma rimane in fondo al cuore, secondo i cattolici, questo timbro della loro identità non può essere cancellato. Quindi, cosa porta alla pace? Essere visitati da Dio. E oggi viviamo tempi, come vedete, di guerra. E allora perché c'è la guerra? Perché non riconosciamo che siamo visitati da Dio. Dalla regina della pace, per esempio, che è madre del principe della pace. E quindi questa salvezza è stata nascosta ai tuoi occhi, dice il Vangelo. In questo giorno, se avessi compreso anche tu in questo giorno quello che porta alla pace, ma ora è stato nascosto ai tuoi occhi. Cioè, non vedi più il segno che Dio manda, perché anche tu, abbracciato, come Gesù ha fatto con gli apostoli, così la Madonna fa con noi in questi tempi, e quindi se tu non ti lasci abbracciare, non ricevi il dono della pace. E quindi non puoi vedere. Non puoi vedere. Allora uno dice, sì, ma padre, io non mica vedo la Vergine. Santa Faustina ha visto Gesù, e io no. Dove si può vedere? Che siano una cosa sola perché il mondo veda e creda. Ecco, noi i cristiani abbiamo questa grande responsabilità. Di mostrare Dio. No, noi non siamo Dio. Tuttavia, dove due o tre sono riuniti nel mio nome, dice Gesù, io sono in mezzo a loro. Quindi quando tu vedi due persone che si vogliono bene, tre persone, cinque persone, l'altro giorno appunto una signora ha scritto, vedendo questa foto mi ha messo gioia. In quella foto c'era la figlia, che conosce un periodo di agitazione adolescenziale, ma vederla con quelli più grandi, con il sacerdote, nella chiesa, ha detto, vedere questa foto mi ha messo gioia. Cioè mi ha donato un dono dello spirito, un frutto dello spirito. Ecco allora, fratelli, noi possiamo vedere Dio se ci lasciamo visitare dal segno di Dio. Gesù misericordioso, la Vergine, che è venuta, che viene sempre, in ogni periodo dell'anno, ha detto Papa Francesco, in ogni epoca, il 25 marzo del 2022, quando ha fatto la consacrazione del mondo intero, e della Russia, e dell'Ucraina, ha detto, la Madonna in ogni tempo, in ogni epoca ci fa visita, visita i suoi cari figli, ha detto. Ecco allora, noi dobbiamo aprirci al segno che Dio ci ha mandato, perché se stiamo a Gerusalemme e non andiamo a Betlemme, il segno non lo vediamo. Il segno implica che tu ti muova, pellegrino, come quelli che si trovano qui, quanti dicono io dovevo venire in questa chiesa, oppure ci sono capitato per caso e non pensavo di incontrare questo segno, oppure nella mia vita sempre questa immagine ogni tanto ricorre. Quindi bisogna muoversi verso il segno e allora abbracciato dal segno di Dio, della presenza di Cristo, la presenza della Madonna, e allora riconosci Cristo nel fratello, nella sorella, o come Santa Elisabetta di Ungheria, anche nel povero. Ciascuno di noi è segno di Dio, perché non siamo solo pelle, ossa e muscoli, ma siamo anima e corpo e siamo anche dono dello Spirito Santo. che ci fa figli e ci fa fratelli e sorelle. Ecco, allora adesso Gesù ci fa visita nell'Eucaristia, non si nasconde, si nasconde nell'ostia, ma noi sappiamo che è presente e da dove si può vedere dagli effetti. Se noi dopo la messa ci apriamo al dono del fratello e della sorella che ha mangiato con noi, è diventato nostro consanguineo, allora vuol dire che abbiamo incontrato Dio e che anche gli altri lo possono incontrare. sia lodato Gesù Cristo. Grazie. 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 Grazie.